musica 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 uè uè buonasera ben trovati come le va? le va bene va in porta sei pronto? vai uè no palla sul fondo palla sul... nel mare eh ma devo mirare velocemente allora hanno giampato lì ok sono arrivati da noi si box sono lì due lì una terra capissimo ok che questo è forte occhio fra occhio alla testa eh si 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 sparano tra di loro forse però sono due v2 v2 v1 io c'ho due jump eh in casa allora eh aspetta che metto un altro muro avanti avanti eh va 5 minuti ok 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 è rischioso così ok ci dobbiamo muovere poco che mi sono mangiato erano in due dobbiamo cercare di andare un po' più avanti aspetta 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 che loro si attaccino adesso occhio a non morire hai quindici secondi si mi ho tolto un botto io no andiamo avanziamo 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 no sei caduto? no io sono caduto invece c'è qualcuno che vola occhio occhio la terra 34 terra ok una terra occhio che una è la eh occhio che una è la aiutami aiutami ok ok vai 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 perfetto 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 vai 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 prendi tutto prendi tutto ok Kate potrebbero arrivare fermo 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 vuoi lasciare qui ok 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 call attento che pu sí puy sono puy sono bellissimo bella bella questa partita grazie a tutti